Presso la Chiesa Madre dei Santissimi Pietro e Paolo si è tenuto l'evento Nativitas Domini, dialogo tra fede e arte e il presepe ai tempi di San Francesco. Stasera abbiamo esaminato un nuovo percorso, dopo quello dell'anno scorso, del presepe prima di Francesco. L'abbiamo esaminato durante il tempo di Francesco, quindi siamo partiti da alcune rappresentazioni inerenti alla cultura bizantina che comunque era presente, per poi passare a quelle che sono state le raffigurazioni di Giotto, quindi più realistiche, più vicina alla tenerezza anche della maternità e anche con l'eliminazione di alcune figure che invece facevano parte delle fonti apocrife, come ad esempio quelle delle Levatrici o del Pastore Tirso, che quindi non sono più presenti nelle raffigurazioni di Giotto. Quindi abbiamo sostanzialmente concluso con quelle che poi sono le rappresentazioni dei presepi tridimensionali, come quello bolognese e quello nella Basilica appunto di Santa Maria Maggiore a Roma, di Arnolfo di Cambio. Abbiamo dimostrato questa sera che in realtà Francesco non voleva fare un presepe, o almeno così come lo intendiamo noi oggi. Ciò che intendeva fare Francesco, ciò che fece in quella notte di Natale del 1223 a Greccio, fu una vera e propria, come dire, opera di catechesi liturgica, dimostrare come esiste una continuità della presenza di Cristo nella storia. Quel bambino che nacque a Betlemme è lo stesso che si fa presente nella celebrazione dell'Eucaristia e questo è quello che fece Francesco, fece celebrare l'Eucaristia sulla mangiatoia. Chiaramente però questo gesto che Francesco ha compiuto ha segnato poi una svolta decisiva sia nella storia della spiritualità che anche della storia dell'arte. Ispirandosi a questo gesto di Francesco, poi è nato il presepe così come lo conosciamo noi oggi. È stato molto bello, non è la prima volta che Don Carlo ci chiama, anzi è la seconda volta che investe su noi giovani appunto che lavoriamo e che studiamo più che altro nel campo della musica. È molto bello sapere che musica e arte vanno di pari passo, certo l'arte è più una cosa visiva, la musica volendo anche però più che altro uditiva. Ci auguriamo che anche l'anno prossimo si ripeterà l'esperienza perché oramai ci abbiamo preso gusto a suonare a questa bellissima manifestazione.